Mirano condurre il pubblico in un viaggio dentro l'essenza umana, un viaggio in cui si realizza l'incontro vero e profondo con persone, culture, luoghi e paesaggi. Tutto possiede infatti un'anima che il fotografo sa percepire e portare alla luce, sottraendola all'immagine parziale e fugace dell'apparenza. Questo e tanto altro nella mostra L'anima altrove del fotografo Adriano Gamberini che inaugurerà sabato 16 giugno alle 18.30 a Palazzo Bracci Pagani di Fano. La mostra è patrocinata dal Comune di Fano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Oggi presentiamo in anteprima questa mostra L'anima altrove che appunto si troverà e sarà visitabile Palazzo Bracci Pagani di Fano. Partiamo proprio da quello che abbiamo dietro, quindi da queste opere in mostra, queste foto, da dove arriva l'ispirazione? Partiamo da questa. Io sono un viaggiatore fotografo, i miei viaggi non sono dei workshop fotografici, sono dei viaggi per conoscere altre culture, altre civiltà e all'interno di questi mi ritaglio quelle scene che per me sono emozionanti, per cui voglio fermare quell'immagine lì, mi sento in dovere di fermarla perché me la voglio ricordare così. Da dove arrivano appunto, ha parlato di viaggi, citiamo appunto qualche meta che ha toccato e che le è piaciuta particolarmente poi anche dal punto di vista fotografico. Ma sicuramente quella che mi ha colpito di più è l'Etiopia, ma io ho girato Asia, Africa, America Latina, Out Europa, ho iniziato viaggiando con un camper e adesso mi ritrovo che viaggio da solo con pochi amici e cerco di portare a casa quelle immagini che sono per me il succo di un viaggio. Possiamo dire che c'è un po' dell'emozione che ha provato quando appunto ha messo l'occhio dietro il mirino della macchina fotografica in ogni foto? Certo, io non sono nato fotografo, io nel primo viaggio che ho fatto ricordo sono nato in India dove è un mondo che per i fotografi è veramente il massimo. Avevo portato con me una compattina, ho fatto 15 foto in tutto, in un mese di viaggio e poi quando sono tornato mi sono dimenticato di riavvolgere il rullino, ho bruciato anche quelle 15, per cui non ci capivo niente, non mi interessava. Poi a poco a poco invece acquistando una singola macchina ho iniziato a fotografare e provavo delle emozioni particolarmente a fotografare però il genere umano, non tanto i paesaggi, gli spazi infiniti quanto la natura umana. Ancora una volta Palazzo Bracci Pagani diventa appunto luogo in cui vengono esposte delle opere, in questo caso presentiamo questa mostra fotografica di Gamberini. Sì, con vivo piacere abbiamo pensato di organizzare questa mostra insieme con il Comune di Fano per Adriano Gamberini, un artista vero della fotografia e che è la prima mostra fotografica importante che facciamo in questo palazzo che è nata proprio per ospitare l'arte contemporanea e la fotografia, questo tipo di fotografia è arte contemporanea. Io credo che molte persone, molti concittadini anche da fuori Fano verranno a visitare questa mostra. Testo Gamberini è stato valutato positivamente da Dario Fo, Dario Fo aveva apprezzato moltissimo e aveva spinto Gamberini a continuare in questa attività. Una bellissima mostra, sono una passione dei viaggi tradotta in scatti, in alcuni casi fra virgolette rubati dove emergono emozioni delle persone, dei paesaggi, sono veramente delle bellissime foto. Poi mi piace perché Gamberini è una persona che con discrezione, in punta di piedi riesce ad esprimere qualcosa di straordinario. Mi fa piacere perché Gamberini è figlio di questo territorio, come spesso accade, si è conosciuti in giro per l'Europa e per l'Italia e magari non lo si conosce nella città dove si vive. Per cui è un modo per valorizzare, per riconoscere questa espressione artistica perché veramente ogni foto è un capolavoro. L'allestimento sarà visitabile con ingresso libero sino al 15 luglio tutti i giorni, da martedì a venerdì dalle 21 a mezzanotte. Il sabato è la domenica, l'apertura è alle 18.